Non avere un'attività economica che ti faccia guadagnare denaro, che ti faccia passare il tempo in maniera fruttifera, non avere interessi amorosi al momento, perché in passato ne ho avuti, non avere neanche un amico, io un amico non avevo mai scomparso, e mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Ti porta davvero a una specie di apatia, piano piano vai giù con la mente, anche col fisico, e stai lì, senti le canzoni, e un buongiorno ti compri una chitarra e anche la tajitura canzone. Pag. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.